ciao a tutti oggi vi faccio vedere una nuova funzionalità dell'ecosistema e we link ecosistema che come sapete mi piace molto cerco di tenerlo universale per questo tante volte mi chiedete ma perché non usi scelli perché non usi quello perché non usi quello perché mi piace avere tutto nell'app e we link una sola questo perché perché ti dà molti vantaggi tra cui la gestione da pc da pc vuol dire che abbiamo e we link web che è un'interfaccia alla cui gestiamo tutto in modo anche grafico e anche perché quella è una piattaforma quella diciamo online sul pc dove ogni tanto aggiungono cose molto interessanti ad esempio adesso hanno acceso la modalità scorciatoie da tastiera vuol dire che se voi avete la vostra app e we link create dentro una scena con bottone virtuale adesso la vediamo insieme e potete comandarla tranquillamente da pc senza andare su internet senza fare nulla ma semplicemente schiacciando una combinazione di tasti che scegliete voi personalizzabile al cento per cento questa è una funzionalità del profilo avanzato quindi diciamo quello a pagamento purtroppo ha un costo da sostenere che comunque ragazzi sono 10 euro l'anno non è una cifra astronomica però vi dà un sacco di vantaggi prima ne dava un po meno adesso vedete che iniziano ad aggiungere qualcosa quindi il fatto di pagare tra virgolette l'applicazione inizia ad avere un senso ma prima di andare avanti vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare tutte le notifiche e di seguirmi su instagram massidattoli perché metto sempre tutti i post dei video che sto preparando e dei contenuti che ho appena pubblicato sul canale come si passa dalla modalità normale a quella diciamo pro cliccando qua adesso sul profilo vedete che in questo caso abbiamo un profilo free gratuito aggiorna per altre funzionalità semplicemente vi chiede di fare il pagamento annuale da 10 euro o mensile da 2 euro si può attivare anche il rinnovo automatico o disattivarlo diamo la spunta facciamo accetta e paga e si apre direttamente il pagamento da paypal oppure si può gestire attraverso i vostri crediti google play pay safe card o codici google ovviamente lo stesso discorso c'è anche per il mondo apple abbiamo la possibilità di condividere dispositivi limitati abbiamo i willink web e adesso abbiamo anche queste scorciatoie da tastiera vi faccio vedere come si impostano come si creano le scene sull'app e come si usa da computer e come si usa sulla tastiera prima ancora di installare l'app sul proprio computer bisogna creare le scene che vorremmo poi gestire dal sistema di scorciatoie su tastiera quindi nuova scena dobbiamo per forza aggiungerla in modalità se tocca per eseguire quindi dobbiamo creare un bottone virtuale e qua mettiamo poi tutta la sequenza di quello che vogliamo fare potremo quindi prendere uno qualsiasi dei dispositivi dentro il vostro e willink non solo sono off ma anche altri dispositivi supportati e creare tutte le combinazioni che volete ne faccio una semplice semplice ad esempio prendo questo tx che ha tre canali e creo una scena per accendere due canali quindi il 2 e il 3 bisogna per forza dare un nome a questo tasto virtuale che abbiamo creato io lo chiamo banco on si può poi volendo cambiare l'icona mettiamo una un'icona a forma di lampadina vedete che tra l'altro anche le scene domotiche di e willink vengono trovate dall'assistente di amazon ne creo poi un'altra che sarà esattamente al contrario per spegnerlo canale 2 lo spengo la chiamo banco off ok vedete che adesso banco off banco on che sono esattamente le luci di questo banco a luci spente possiamo fare banco on che le accende oppure banco off che le spegne fatta questa procedura ci spostiamo al computer ok si procede in questo modo per prima cosa bisognerà andare a questo indirizzo keyboard punto e willink punto cn che vi lascio anche in descrizione esiste sia per windows che per mac os io la scarico per windows in questo caso scarica un file da 60 mega intanto se volete nel canale di e willink che si chiama e willink smart home c'è un video che vi lascio linkato che spiega purtroppo in inglese come impostare e utilizzare le scorciatoie ma noi lo vediamo insieme quindi una volta scaricato da questo link e questo file lanciamo l'eseguibile punto ex esce una finestra dove chiede appunto il percorso per l'installazione andiamo avanti chiede di lanciare willink keyboard shortcuts quando lo lanciamo si presenta in questo modo cosa si tratta di fare adesso bisogna intanto al momento abbiamo solo inglese e cinese quindi lascerei inglese scegliere la propria nazione quindi andiamo a inserire italia e mettiamo esattamente l'email e la password con cui facciamo l'accesso nell'app e willink ci spiega velocemente come impostare il tutto andiamo avanti premendo got it questa è diciamo l'interfaccia che si presenta e ha già fatto l'accesso al nostro account e willink se noi adesso andiamo ad aggiungere una scena manuale qua vedete che ci sono tutte queste caselle vuote premendo il triangolino automaticamente ci fa vedere le due scene che abbiamo creato prima quindi possiamo scegliere banco on ad esempio possiamo scegliere anche banco off e le abbiamo importate qui in questa casella semplicemente posizionandosi qua e andando effettuare la scorciatoia che ci piace con le dita decidiamo ad esempio che banco on si deve attivare con la scorciatoia alt b vedete che automaticamente lo prende qui nella casella me lo scrive ogni singola scorciatoia può essere attivata o disattivata andiamo poi a realizzare la scorciatoia di banco off che può essere alt n ma poteva essere anche una combinazione più importante quindi poteva essere ad esempio control shift j e vedete che mi avrebbe riportato questa scorciatoia possiamo personalizzarla con tasti funzione e lettere come preferiamo io adesso per comodità rimetto alt n e in questo modo abbiamo le nostre due scorciatoie qui siamo nella home qui abbiamo la sezione help per essere aiutati nell'impostazione e qui in setting possiamo decidere se ricevere le notifiche push se lanciare l'applicazione all'accensione del computer e il linguaggio che rimane in inglese se ora io vado a premere la mia combinazione di tasti che alt b vedete che si accendono immediatamente le luci la latenza è veramente corta se vado a fare alt n vedete che le luci si spengono l'applicazione nel computer può essere tranquillamente chiusa ma rimane in esecuzione quindi alt b alt n stessa cosa se andiamo a riavviare il computer vedete che se apriamo l'app e willing compare un dispositivo nuovo che si chiama desktop qm eccetera eccetera vi va a inserire l'applicazione degli shortcuts dentro la piattaforma willing come fosse un dispositivo se noi clicchiamo sopra ci fa semplicemente vedere quali sono le scene impostate nelle scorciatoie e ci ricorda la combinazione di tasti da premere non possiamo modificarle ma una cosa che possiamo fare in impostazioni ad esempio è cambiare il nome questo è il nome che prende in automatico dal nome che al vostro pc da quando è stato installato possiamo cambiarla e chiamarla ad esempio scorcia toglie tastiera in questo modo il dispositivo avrà almeno un nome comprensibile vedete anche la forma dell'icona è completamente diversa dagli altri dispositivi quando si può usare si può usare in un sacco di situazioni allora siete in ufficio davanti al computer arriva il corriere che vi telefona e magari avete il sonoff collegato il citofono che apre ok create la scena scorciatoia alt c che sta per cancelletto e voi mentre siete al telefono gli aprite il cancelletto questi sono gli utilizzi diciamo funzionali ovviamente avete tutto il controllo delle luci quindi quando siete al computer potete accendere e spegnere le luci di casa senza alzarvi dalla vostra postazione ma l'utilizzo che viene diciamo un po più figo è quello quando magari dovete giocare al computer quindi una cosa rivolta a più ai gamers mentre passate magari dallo studio al gioco prendendo appunto questa scorciatoia da tastiera con due tasti magari spegnete l'illuminazione della stanza e accendete tutte le rgb magari come le sono nuove che avevamo recensito che si muovono e passate dalla modalità stanza normale alla modalità stanza di gioco con un tasto so poi benissimo che voi avete molta più fantasia di me quindi troverete delle ambientazioni delle soluzioni sicuramente fantastiche io volevo solo farvi conoscere questa nuova funzionalità e farvi vedere come funziona spero che il video vi sia piaciuto un bel like iscrivetevi al canale ci vediamo al prossimo video tutorial recensione diretta del giovedì ci vediamo da qualche parte grazie ciao da massidattoli